Non è una foto, un saluto a me, a Vale Virale, allora a Vale Virale, esatto, un grande saluto a Vale che è sempre lei, però a Vale Virale è di una vada sull'idea, esatto, noi la salutiamo caldamente, di persona ma anche, ma si no, stiamo vivendo molto divertito, tanta roba, sono poco divertito, la piatta risposto bene, Mito, hai un mito per me